amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi riprendiamo un tema già noto abbiamo fatto decine di filmati sulle alfa giulietta però essendo le macchine in questo periodo più gettonate quando ci capitano le giornate dove facciamo appunto le riprese se c'è una giulietta la facciamo vedere sempre con molto piacere tutto qua c'è una piccola particolarità rispetto alle altre andava va fatto un video proprio per far vedere questa piccola differenza comunque partiamo dal modello questo 1.4 benzina 88 kilowatt quindi un 120 cavalli classico il cliente ci ha chiesto appunto di fare parzialmente di fare quasi tutto lo stage 1 manca solo il pedal booster però abbiamo partiamo dalle cose più semplici quindi filtro dell'aria in questo caso è cilindrico della bmc al posto di quello in cartone quindi alloggiato nella scatola filtro rimappatura della centena elettronica via seriale in questo caso abbiamo garantito un incremento di circa 23 24 cavalli questi sono motori dove non si riesce ad avere un incremento di potenza come magari altri motori perché hanno diciamo una limitazione cioè si riesce ad avere un incremento ma non eccessivo quindi per non avere poi delle problematiche il motore che deve girare perfetto senza buchi senza diciamo problematiche di erogazione abbiamo sviluppato una mappa che grosso modo da quel tipo di incremento come newton metri siamo intorno a trentina di newton metri più che sufficienti rispetto alla massa della vettura la macchina soprattutto ai medi bassi ha uno scatto uno spunto chiaramente più brillante a parità di velocità consuma meno quindi nei percorsi diciamo autostradali o nelle lunghe percorrenze sicuramente la macchina consuma meno e questo visto che appunto la macchina benzina è una cosa che fa piacere in città non cambia quasi niente soprattutto se uno tira la macchina la vuole usare a livello sportivo chiaramente li consumerà un pochino di più però nella media di un anno una mappatura fatta in maniera intelligente come quelle che proponiamo alla fine statisticamente sul percorso annuo il cliente va a risparmiare poi dipende dal tipo di guida che ha il cliente altra cosa che normalmente ci chiedono di fare è la modifica dello scarico come avevo diciamo premesso all'inizio il cliente ha comprato questa macchina usata questa macchina esce sostanzialmente con questi due pezzi questo è il tubo centrale con il silenziatore centrale o rompifiamma perché questo comunque è già diretto è il passaggio già diretto qua c'è un tubo florellato qua c'è la lana di roccia serve per attutire fono assorbire il rumore non è un vero silenziatore il vero silenziatore è quello che ovviamente è stato sostituito dopo lo vediamo con uno sportivo la cosa che all'inizio non riuscivamo a capire che questa macchina ci è arrivata con il dam cioè l'estrattore posteriore già predisposto per la doppia uscita e vedevamo appunto le due uscite prima di andarla a mettere sul ponte vedevamo le due uscite che cosa ha fatto il proprietario precedente ha fatto una finta uscita qua è tappata quindi questa è una finta uscita l'ha staffata sulla parte destra del telaio e da un punto di vista estetico ha ricreato quello che abbiamo fatto noi però mettendo dei pezzi reali cioè una roba che per dire d'inverno quando c'è la condensa se uno accende la macchina il fumo esce solo dalla parte sinistra la parte destra sono quelle cose che a noi lasciano un po perplessi poi c'è chi questi lavori li fa questo lavoro sicuramente fatto artigianalmente da qualcuno non sappiamo chi però fare delle cose fasule onestamente non è che ci ci faccia impazzire però è la prima volta che vediamo una cosa fatta in questo modo a questo punto cosa abbiamo fatto abbiamo messo al posto del centrale un tubo diretto centrale questo diviso in due pezzi tra cui è flangiato cioè si è flangiato la qui diciamo con la fascetta e qua arriviamo al terminale quindi il centrale è proprio la somma di questi due pezzi che va a sostituire questo qua poi da qui ci colleghiamo con il terminale il terminale parte da questa flangia qui a un silenziatore che se non andiamo a paragonare il silenziatore diciamo di serie è un 30 per cento più piccolo e soprattutto è più è più diretto quindi la sonorità chiaramente ne beneficia ovviamente in questo caso abbiamo messo le uscite vere cioè abbiamo fatto l'uscita destra e sinistra con le uscite da 100 da 102 destra e sinistra cromate ma sono uscite reali se uno mette la mano qua esce la pressione dello scarico in inverno per dire la fumosità quando finché tanto che nella macchina non è calda esce il fumo da due le parti cosa che con uno scarico fasullo qualche cosa lascia perplesso è una chicca che vogliamo far vedere la ragazzo nel kit che dà fornisce anche questo questo pannello di materiale termoisolante che va a sostituire quello di serie che è appoggiato lì al muro perché essendo il silenziatore più grande ovviamente c'era bisogno di avere una parte che isolasse dal calore maggiore quindi nel kit loro forniscono anche questo pannello che si avvita sulle stesse sui stessi fori di quello originale e sono quelle piccole cose che secondo me fanno una grossa differenza perché ripeto altre abbiamo fatto solo lo scarico e morta lì aver fatto anche questa piccola cosa dal mio punto di vista denota la qualità e l'impegno che questa casa che fa scarichi ci mette nel proprio lavoro non peraltro siamo come 9000 giri siamo il loro cliente principale in italia perché montiamo talmente tanti scarichi che siamo appunto direi numero uno ma senza diciamo enfasi o quant'altro diciamo che c'è un'ottima collaborazione che dura da anni ogni anno aumentiamo sempre un po di più e il fatto di essere appunto i loro clienti principali da un certo punto di vista ci dà soddisfazione adesso tiriamo giù la macchina dal ponte sentiamo un attimo il sound Mirko accenderà la macchina e sentiamo un attimo qual è il sound ecco adesso Mirko accende la macchina sentiamo la differenza purtroppo non possiamo farvi sentire la versione di serie comunque per tutti quelli che hanno questo tipo di vettura possono capire la differenza vai Mirko ecco come dico tutte le volte il fatto di registrare dei suoni noi non abbiamo una trezzatura iper professionale quindi purtroppo i suoni che emergono dai nostri filmati sono sempre filtrati da un microfono che ovviamente non può essere un microfono iper professionale quindi la realtà poi alla fine è diversa da quello che voi sentite nel video però è giusto per farvi sentire una differenza rispetto a quello di serie sapendo che nella realtà poi la sonorità comunque è diversa io direi che anche per questa Giulietta è tutto la includiamo nell'archivio elaborazioni insieme alle altre 3600 schede vettura quello che vi invitiamo a fare nel caso abbiate delle informazioni da chiedere contattaci in sede lo 0273 83175 mi trovate tutti i giorni da lunedì al venerdì vi chiediamo di cliccare sulla campanella e soprattutto di iscrivervi al canale per aiutarci a farlo crescere sempre di più e soprattutto per rimanere aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima un saluto alla prossima